Polvere che oggi la fa da padrona e dobbiamo proteggerci perché è un problema riuscire a vedere bene le nuvole di sabbia e di polvere che si alzano ci impediscono di vedere bene quindi bisogna per forza proteggerci. Oggi siamo alla fine di questa speciale dello stage numero 6 della Dacato 2019 con solo tre italiani delle moto che sono rimasti in gara li seguiremo Maurizio Gerini, Mirko Pavan e Gabriele Minelli vedremo cosa accadrà, ve lo diremo più tardi restate qui con noi